Mister Saladino, il cuore oltre l'ostacolo. Oggi era una partita fondamentale per voi, ma lo era anche per loro che erano riduci da una sconfitta interna. Avete vinto una partita perfetta secondo me, un primo tempo esemplare nel quale avete concesso poco o niente all'Olympic. Il secondo tempo era ovvio che doveva venire fuori una corazzata come quella dell'Olympic, però credo che oggi nessuno possa dire su questi tre punti conquistati dalla sua squadra. Guarda, hai fatto un'analisi perfetta. Il secondo tempo i ragazzi secondo me ora oggi hanno capito che se soffri porti il risultato a casa, perché tre partite noi non abbiamo fatto altro che giochi chiare, ci siamo un pochino guardati un pochino allo specchio. In questi campionati se tu abbassi poco poco la concentrazione, i ritmi, fai brutta figura innanzitutto. Oggi forse i ragazzi hanno capito che bisogna, come dici tu, buttare il cuore oltre l'ostacolo. Senti mister, da oggi ricomincia un nuovo campionato per il Soriano, perché questi punti valgono quantomeno 4-5 in una classifica, perché non credo che tante altre squadre faranno punti contro l'Olympic rossanese. Un nuovo campionato per la sua compagine che forse fino a ieri era stata un tantino sottovalutata, eppure oggi anche se con qualche emergenza ce l'avete fatta abbattere questa corazzata Olympic. Sì, sì, ma infatti chi ha sostituito i mancanti si è completato benissimo. C'è da dire che la rossanese è una grande squadra, costruita bene in ogni reparto, con giocatori oltre di esperienza, di categorie anche superiori. Oggi abbiamo fatto bene, come dici tu, forse vale più di una vittoria e siamo contenti. Ultima cosa, vogliamo dare la palma del migliore in campo a uno oppure vuole elogiare tutti gli undici? Tutti i 21 convocati di oggi. Do il migliore in campo a tutti i 21 convocati di oggi. E al mister che voto gli diamo? Il mister il voto se lo deve prendere dal martedì al venerdì. Quindi i giocatori devono darmi il voto dal martedì al venerdì. La domenica quello che è fatto è fatto durante la settimana. Grazie mister. Grazie a voi.